Riprende il campionato di volley Roberto Piazza, allenatore della Power Volley Milano, e Matteo Piano, capitano della squadra, raccontano che tipo di stagioni si aspettano. Una stagione, la prossima, quindi il 2019-2020, all'interno dell'Allianz Cloud, quindi sarà un evento straordinario perché per la prima volta la Power Volley rientra a Milano, dentro le mura di Milano, nella città di Milano, a contatto con i milanesi. Quindi questa sarà la stagione numero uno per quel che riguarda Power Volley in Milano. Sportivamente parlando, credo sia una stagione tosta, più tosta, delle ultime fatte perché la qualità di ogni squadra si è alzata e si sono rinforzate anche le prime squadre. Quindi è veramente un campionato, lo si dice tutti gli anni, lo so, però è vero, di battaglie, di tante battaglie. Non aiutati dal calendario, giocheremo di continuo, anticipi, posticipi, è tutto, quindi bisogna essere bravi. Grazie. Grazie.